Sono le anomalie climatiche a far scendere la produzione di olio extravergine d'oliva in Abruzzo. Coldiretti stima un calo fino al 30% della produzione rispetto all'anno precedente, anche se l'Abruzzo resiste meglio di altre regioni del sud a partire dalla Puglia, proprio ai cambiamenti climatici. Coldiretti sottolinea che il calo produttivo colpisce un settore che ha già pagato un conto salatissimo rispetto all'emergenza covid. A pesare soprattutto il crollo delle vendite per la chiusura del canale di ristorazione. Per sostenere la ripresa del settore, dice Coldiretti, servono massicci investimenti pubblici e privati a partire da un piano straordinario di comunicazione sull'olio che rappresenta all'estero un prodotto simbolo della dieta mediterranea. Le previsioni per la campagna appena avviata sono di una flessione produttiva intorno al 30% come detto, accompagnata però da un buon livello qualitativo del prodotto. La pandemia continua Coldiretti. Ha fatto sentire i suoi effetti anche con la necessità di garantire una raccolta sicura con il rispetto delle norme anti-covid. Ha inciso sulle imprese olivicole italiane anche il crollo del 44% dei prezzi pagati ai produttori scesi ai valori minimi dal 2014. Coldiretti ricorda anche come il comparto olivicolo conti in Abruzzo circa 6 milioni di piante su circa 46 mila ettari che rappresentano il 50% della superficie agricola arborea utilizzata. Un totale di circa 60 mila aziende di cui 15 mila coltivano prevalentemente olivo, oltre 350 frantoi e tre dop presenti nelle province di Chieti, Colline Tatine, Pescara, Aprutino Pescarese e Teramo Pretuziano delle Colline Teramane. La produzione media abruzzese è di circa 14 mila tonnellate di olio negli anni di carica.